Ciao a tutte bellissime, ecco qui il video con gli acquisti che ho fatto in questi due giorni sono contentissima perchè ne ho fatti veramente molti Allora, sono stata da Otais, che è un negozio che si trova a Ponte San Giovanni non so se c'è anche nella vostra zona e ho preso Allora, aspetta, questo qua non c'entra nulla Questa cannottierina che mi piaceva un sacco, davvero un sacco Così, fatta in questo... ora, aspettate Fatta in questo modo Non so se la riuscite a vedere, però ha tutto il pizzo, vedete? Mi piace un sacco Così, bianca, classica Pagata 22 euro Poi ho preso, e questo qui credo che sia puro cotone Già, vabbè Poi ho preso questo qua che è stato uno dei miei acquisti preferiti Che è questo giacchettino Che a voi sembrerà un classico giacchetto Ho preso così, ma, vabbè, anche ho una cintura Qui ho il colletto con questa Ringhietta Ringhietta Ma all'interno, guardate È fatto interamente in pizzo Vedete? Bellissimo Celeste, mi piace un sacco E questo qui l'ho pagato 29 euro Ok Poi Ah, ultimo acquistino Che Ho spettato Ora ve lo dico Allora Intanto è stata questa qui che mi hanno dato loro Così Una Una sciarpettina Ho preso questa maglia Così Traforata Non so se riuscite a vedere che è traforata Però penso di sì Infatti vedete che si vede dietro E scoprirete perché Questa qui non vi so dire quanto l'ho pagata Perché non c'è il braccio attaccato Ah, sì, forse ve lo sapere Perché credo che ho il contrino 22 euro Poi Piccolissimo Acquistino Davvero piccolo Sono stata da Beshka E ho preso Solamente una cosa Che qua mi piace un sacco Ho trovato solo questa qui che mi piaceva E sono Quest'anno Ne hanno fatto tantissimo Con tantissime fantasie diverse Sono questi Fuso Con tutti questi Ops Con tutti questi disegni Vedete? A fumetto Mi piace un sacco E l'ho pagata E l'ho pagata Ora ve lo dico Questi qua che mi piace un sacco Questi qua che mi piacciono tantissimo Questi shorts Che sono un arancione fluo proprio Veramente un arancione fluo Veramente un arancione fluo Sono molto corti Pagati 9,95 euro Credo che questo qui si vedrà Ok Poi ho comprato Questo Diciamo Vestitino Anche se non è proprio un vestitino Però questo vestitino Con tutti questi Brillantini Sì Sì sono brillantini Sul decoltè Però in fondo Non ha la gonna Ma ora non so che si vedrà Ma ha Il pantaloncino Vedete? Quindi Veramente Veramente carino Dietro è Nero classico Pagato 9,95 euro Quindi veramente Poco Poi ho preso Questa Cannotterina Questo color Menta Così Classica Con le rigature Già che si vedono Vabbè Pagata 6,95 euro Da mettere sopra I shorts Poi Ho preso Quest'altra Cannotterina Veramente classica Bianca Da mettere Sotto Alla Maglietta Traforata Pagata 4,95 euro E infine Acquisto Top Dopo il Giacchetto Anzi Anche prima Non credo Cioè non so Sono questi Fuso Con questa Fantasia Meravigliosa Ora ve lo Indoppio Per farvelo Vedere un po' Meglio Aspettate Ecco Vedete Con questa Fantasia Che mi ricordava Un po' I soffioni Non so Anche Se ve lo Ricordano Anche a voi Però Sono Quei fiori No Che Tutti tipo Pelosi Che voi Soffiate Guardate Questo Vedete Sembravano Un po' I soffioni Pagati 12,95€ E Questi qua Da mettere Sotto La maglia Traforata E alla Cannottierina E Quindi nulla Allora Allicinarmi Tutto Spesso Ora Bico Ho speso Questo qua Non so se Vedete No Non lo Fatti Vedete Ok 44,75€ Da Besh Cavalietto 12,99€ E Da Otais In tutto Speso Mi sembra 51€ Aspettate Se vi Trovo Sto Il primo Ok Sì 51€ Quindi Nulla Ragazzi Questo Piero Ha un video Per farvi vedere I nuovi Acquisti Che non sono Ne tanti Ma nemmeno pochi Secondo me Sono giusti Per rifare il mio guardaroba E Nulla Noi ci vediamo alla prossima Ciao bellissime